questa sta registrando sd è spento stavolta stavolta l'antenna la stiamo si centro la merda troppo bene penso di farla atterrare bene di precisione perché ho come riferimento gli alberi che sono più in alto quindi pure che la videocamera inquadra verso sopra per ora riesco a vedere metto il rec aspetta 10 satelliti già ci sono quindi non c'è problema se sta allontanato mi vado a posizionare di nuovo più lontano magari qua stavolta se me lo inclino dritto verso sotto forse è pure meglio che minca ha già avvesto sotto così è partito allora te ne mi giro l'asta e allora sono 800.000 watt modalità air cazzo 30 secondi è il conto alla rovescia niente suonerò un casino però un po' un cazzo e allora non cazzo 30 secondi è un cazzo Grazie a tutti. 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 Diciamo, c'è atterrato a cavallo. Non lo faccio allontanare assai perché non so per quale motivo sei spento. Un po' di polvere è alzato. Ci sta con la batteria. Ci beviamo la Red Bull e buonanotte. Per oggi abbiamo concluso. Se volete vi inquadro l'osd con la GoPro. Poco fa pigro per chi si è spento non lo so. Allora.